Buongiorno, Marisa! Buongiorno, Bice. Come ti senti stamattina? Eh, assai meglio, Art. Quindi potresti anche andare via? Sì, il tempo di fare i bagagli. Eh, vado via. Già stanno a ca' fuori. Che carina! E come faccio a portarli tutti insieme? Hai ragione. Allora fai una cosa. Prendi la macchina, la porti qua sotto, apri il portabagagli e te gli è ta' goppa bascia! Marisa, in questi sette giorni ho capito una cosa di te. Cioè? Che me gli amano va. Bravo. Marisa, mi mancherai tanto. Bice, tu mancano bocca. Marisa! Ho il ginocchio, Marisa! Vabbè tutto a posta. Allora, in sé, tutto a posta, Marisa.